I primi device che vengono in mente parlando di smart home sono quelli che fanno qualcosa ossia cambiano di stato una lampadina che si accende, un attuatore che spegne o accende un elettrodomestico eccetera eccetera ma cos'è che permette di automatizzare queste accensioni spegnimenti o regolazioni di stato? come ben sapete per me le automazioni sono la cosa fondamentale di una smart home ebbene sono i sensori e oggi vi descrivo i miei preferiti partiamo da quello che secondo me è il re dei sensori l'Iotech Multisensor 6 questo oggetto è un capolavoro della sensoristica ve lo faccio vedere bene queste sono le dimensioni quindi molto compatto e adesso vi descrivo le caratteristiche per prima cosa le batterie ha spazio per ben due batterie le classiche CR123 che io uso al litio in particolare dei sensori che gli permettono di funzionare ininterrottamente per mesi come vedete all'interno ha anche una porta micro usb di cui vi parlerò a breve altra cosa da notare l'attacco in metallo peraltro a ghiera presente sul retro nella confezione abbiamo cavo usb micro usb da circa un metro eccolo qua con attacco angolare fatto per essere inserito proprio nel retro al posto delle batterie c'è una piccola fessura qui che permette al cavo di uscire per cui il sensore può essere sia alimentato a batterie nel caso di come dicevo dura mesi ma anche se avete la possibilità alimentato in usb in quel caso dura in eterno ovviamente non solo ma se alimentato usb il sensore sblocca vedremo poi i dettagli alcune caratteristiche abbiamo poi uno snodo vivottante sui vari assi ovviamente fatto per essere inserito nella ghiera metallica sul retro del sensore con fori per due viti o chiaramente lo spazio per attaccare il biadesivo che viene dato in dotazione viti e biadesivo in dotazione come dicevo per attaccarlo a una superficie o per avvitarlo su una superficie dove è possibile avvitare delle viti autofilettanti bene cosa fa questo sensore perché si chiama multisensor 6 numero 1 movimento ovviamente con il sensore infrarossi può percepire il movimento che è una delle cose più usate in assoluto per fare automazioni c'è un movimento accendo la luce c'è un movimento faccio suonare l'allarme c'è un movimento avverto che in quella posizione è passato qualcuno numero 2 temperatura termometro interno anche la temperatura può essere usata per tantissime cose se vogliamo ad esempio controllare un climatizzatore in base alla temperatura di un punto della stanza diverso da quello dove è posizionato numero 3 luminosità anche luminosità viene usata tantissimo per esempio accendo la luce al passaggio del movimento sì ma solo se la luce è bassa quindi se è tramontato il sole se sono chiuse le tapparelle eccetera eccetera numero 4 raggi ultravioletti sì perché la misurazione dei raggi ultravioletti ha un'utilità leggermente diversa da quella della luminosità per esempio io la uso per abbassare le tapparelle quando entra troppo sole i raggi ultravioletti sono una misura diretta dell'irraggiamento solare mentre la luminosità può essere derivata anche da una fonte artificiale numero 5 l'umidità l'umidità come la misurazione della temperatura può essere utilizzata per uno svariato numero di automazioni collegate all'utilizzo di climatizzatori umidificatori, deumidificatori come nel mio caso io uso un sensore di umidità non questo in particolare per accendere e spegnere un deumidificatore che avrebbe il suo sensore di umidità interno ma io voglio misurare l'umidità lontano dall'umidificatore perché è in un ambiente piuttosto piccolo e continuerebbe a accendersi e spegnersi se fosse basato solo sul suo e infine numero 6 ho finito le dita il numero 6 è il sensore di tocco ossia misura, in inglese si chiama tamper sensor misura le vibrazioni in un certo qual modo cioè il fatto che il sensore sia stato toccato o no e serve soprattutto per le funzionalità di sicurezza vi accennavo prima che uno dei pro di questo sensore è di poter essere utilizzato a batteria quindi massima versatilità lo posso attaccare dovunque in una stanza senza aver bisogno di una presa lì in zona oppure USB e in questo caso ho la massima potenzialità diciamo delle misurazioni perché posso avere delle misurazioni anche molto ravvicinate le misurazioni molto ravvicinate consumerebbero la batteria perché richiedono al sensore di inviare spesso dei segnali radio al lab per dirgli cosa sta misurando invece in USB questo problema non si pone quindi posso ottenere delle misurazioni anche molto ravvicinate perché serve? perché ad esempio se sto usando la misurazione dell'umidità per accendere e spegnere un deumidificatore non posso lasciare un intervallo di tempo di un'ora mentre invece se sto misurando come faccio io per esempio la temperatura in giardino perché mi piace tracciarla e usarla per esempio per avvertirmi di chiudere le finestre se fuori fa freddo o caldo eccetera eccetera mi va benissimo un sensore in batteria che misura ogni ora come dicevo questo è uno dei sensori più versatili che abbia mai visto è davvero eccellente, è costruito bene si integra perfettamente i SmartThings che come sapete è il mio sistema di domotica questo attuatore è Z-Wave quindi è compatibile con il mio hub di SmartThings con molti altri hub Z-Wave che è un protocollo standard e gli permette ovviamente di avere delle ottime performance come dicevo in termini di durata della batteria ma anche in termini di portata del segnale perché lo Z-Wave lavorando a 800 MHz è uno dei segnali che arriva più lontano in assoluto anche attraverso ostacoli vi descrivo un ultimo vantaggio di questo sensore ebbene sì, come vedete ha un accessorio per essere affogato nel cartongesso fondamentalmente ha questo accessorio per l'inserimento viene avvitato il sensore che peraltro resta orientabile come vedete e questo vi permette di farlo veramente scomparire all'interno di un ambiente in modo che non lo si noti vi assicuro che adesso lo sto inquadrando in primo piano ma se voi entrate in una camera dove è inserito in questo modo non c'è nessun modo che lo notiate senza sapere che è lì in altre parole questo è senz'altro il mio sensore preferito per la domotica lato negativo se vogliamo il prezzo questo si trova su Amazon tra i 50 e i 60 euro quindi va utilizzato nelle situazioni in cui ha senso utilizzarlo io personalmente ne uso circa 8 perché quando ho preso casa ho deciso di puntare molto su questo sensore per avere più misurazioni possibili in tutte le case ovviamente non è fondamentale sapere l'umidità, la luminosità eccetera 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 di tutte le stanze di casa vostra quindi farete le vostre valutazioni per il secondo sensore vi devo spostare perché li ho tutti montati sulle finestre e non ho voglia di strapparli per poi dover rimettere il biadesivo si tratta del sensore per porta o finestra di Xiaomi Acara questo sensore prodotto appunto da Xiaomi sotto il brand Acara che è uno dei brand di smart home di Xiaomi tipicamente quello che individua i prodotti Zigbee e infatti questo è un prodotto Zigbee è esattamente quello che dice il nome un sensore per porta e finestra rileva l'apertura nient'altro ci sono sensori per porta e finestra più avanzati che misurano anche la temperatura oppure a cui si possono collegare sonde esterne il sensore di Xiaomi fa esattamente quello che dovrebbe fare vi dice quando una porta o una finestra si apre quando si chiude e lo fa per la modica cifra di 8-10 euro se lo comprate sui classici store cinesi come Gearbest un pochino di più ma non tanto se lo comprate su Amazon Italiano è veloce, è affidabile l'unico difetto se vogliamo di essere un pochino più complicato da far riconoscere agli hub non Xiaomi come SmartThings per esempio perché non è ufficialmente supportato ma come ho detto già in altri video quando comprate un hub dovete assicurarvi che questo abbia delle capacità di supportare dei device non supportati ufficialmente e questo è il caso di Xiaomi con SmartThings infatti la community ha sviluppato dei cosiddetti device handler ne parlo in un altro video e vi faccio proprio vedere come installarli dei device handler dicevo che supportano tutti i prodotti della linea cara e questo non fa eccezione ci vuole un attimo di più di smanettamento ma ricordatevi che troverete tanti consigli in tal senso nello specifico consigli su come installarlo sul nostro gruppo Facebook SmartThing Italian User Group terzo e ultimo sensore Osram famoso produttore di lampadine addirittura a fare per le macchine e in generale soluzioni per l'illuminazione ha a listino anche dei prodotti per la Smart Home ebbene sì e questo è il loro sensore di movimento ve lo faccio vedere meglio come vedete anche questo dimensioni compatte a spazio non sto a aprirlo solo per una batteria 123 che differenze ha con l'IoTEC? innanzitutto questo è Zigbee e non Z-Wave vera differenza marginale ma è importante saperlo soprattutto se voi non avete un hub come SmartThings che supporta sia Z-Wave che Zigbee a parte questo dettaglio come dicevo ha una sola batteria quindi la sua durata è un po' più limitata è anche vero che misura meno cose questo è un sensore solo di movimento temperatura fa quello che deve fare è molto veloce molto reattivo e costa circa a seconda di come lo trovate su Amazon, eBay e quant'altro sui 20-25 euro quindi parliamo della metà rispetto all'IoTEC è vero a meno funzionalità gli mancano anche gli accessori per essere montato con lo snodo ad esempio l'IoTEC può essere veramente montato in qualsiasi posizione questo può essere ovviamente appoggiato può essere montato con dell'adesivo contro una parete anche essendo leggermente spigolato può essere montato in uno spigolo è difficile però angolarlo e puntarlo perfettamente in una direzione anche se devo dire che ha un'apertura del raggio di rilevazione molto alta quindi quando vi serve un sensore di movimento con in più la capacità della temperatura o perché no anche solo un sensore di temperatura questo è un'ottima opzione perché costa comunque poco ed è veramente affidabile e funzionale anche questo si integra perfettamente in SmartThings nativamente in SmartThings ed è il sensore che comunemente io utilizzo laddove mi serve solo il movimento per automatizzare ad esempio le luci l'utilizzo classico è sulle scale o nei corridoi dove la luce si deve accendere ma non è importante come in una stanza magari da letto o in un soggiorno sapere anche la temperatura e l'uminosità per gestire altre impostazioni adesso come promesso vi faccio vedere come compaiono i sensori su SmartThings e come compaiono anche i valori registrati dei sensori qui siamo nell'app di SmartThings io adesso vado a cercare prima di tutto l'IoTech questo qua alla mia destra questo è quello che tengo solitamente in camera da letto e vedete che compare una schermata con tutte le rilevazioni rilevate da questi sensori in questo momento in particolare adesso compare anche movimento rilevato perché l'ho appena toccato oltre al movimento abbiamo anche la temperatura e l'umidità l'illuminanza che è una traduzione ovviamente malfatta di illuminazione dice che è alimentato tramite cavo USB non manomissione vuol dire che in questo momento non lo sto toccando quindi non è stato toccato da qualcuno raggi ultravioletti 0 è sera non c'è sole che entra dalla finestra batteria 100% perché ovviamente è alimentato posso anche vedere la cronologia quindi tutto quello che è successo a questi valori nell'ultimo periodo e per determinati valori posso anche andare a vedermi il grafico eccolo qua questa ovviamente è l'app nuova di SmartThings chi usa SmartThings sa che esiste anche un'app classic che compare in modo diverso meno completo posso variare il range in cui mostro una determinata misurazione e questo può essere interessante anche per fare automazione quindi io capisco dal grafico qual è la soglia di temperatura o altro oltre la quale voglio che succeda qualcosa nel frattempo sto continuando a toccare il tavolo quindi il movimento continua a essere rilevato ovviamente aspettiamo un attimo a vedere se si resetta nel frattempo che questo si resetta il movimento io vado su l'altro sensore vedete che questo compare leggermente diverso ovviamente ci sono molte meno misurazioni però dice nessun movimento e adesso vi faccio vedere che compare movimento rilevato immediatamente molto bene misura la temperatura misura 17 gradi perché in realtà l'ho portato su dalle scale da poco e non è ancora passato il range di tempo oltre il quale questo inviarà la nuova misurazione l'ho impostata se ricordo bene a 30 minuti perché non mi serve sapere la temperatura delle scale quindi l'ho messa il meno spesso possibile per risparmiare batteria eccoci adesso vi faccio vedere il movimento vedete che compare immediatamente un movimento rilevato e in teoria se lo scuoto dovrebbe comparire esatto la manomissione come la descrizione è un sensore davvero molto completo faccio vedere rapidamente anche il sensore di Xiaomi quello per la porta e la finestra peraltro è questa finestra vedete che compare semplicemente che la finestra è chiusa e che la batteria è al 100% sui sensori di Xiaomi la sensibilità alla carica della batteria è affidabile così così perché questo sensore in realtà è installato da diversi mesi quindi non penso sia al 100% anche se effettivamente so già che durerà moltissimo quindi non è certo bassa vi faccio vedere all'apertura ecco quello appena lo apro diventa open ve lo faccio vedere anche nella dashboard principale vedete qui c'è finestra sala 2 appena l'ho chiuso diventa closed bene questa era la lista dei tre sensori che preferisco e che uso di più sono quelli che permettono gran parte delle routine e delle automazioni che ho nella mia smart home voi invece cosa utilizzate? fatemelo sapere nei commenti come al solito sono ben accette richieste di tutorial e ovviamente se vi piace quello che vedete sul mio canale iscrivetevi grazie ancora dell'attenzione alla prossima